La colonna è sicuramente coinvolta di frequente nelle patologie ortopediche e neurologiche del cane. La troviamo coinvolta sia in pazienti anziani che in pazienti più giovani. Tra le patologie più frequentemente riscontrate vi sono la spondilartrosi nei pazienti più anziani, le protrusioni o destrusioni del disco, specie in cani come il pastore tedesco o il bassotto o comunque in tante altre razze, la stenosi degenerativa lombosacrale e patologie di natura traumatica come lussazioni o fratture vertebrali. Per trattare la colonna è necessario andare a trattare anche la muscolatura paravertebrale, ovvero la muscolatura che sta ai lati della colonna vertebrale. Le patologie possono essere trattate sia nella fase più acuta che nella fase più cronica. Nella fase più acuta e post-operatoria andiamo a trattare infiammazione, dolore ed edema. Nella fase più cronica, come nel caso di estrusione del disco, al di là degli anni, nella parte più cronica della patologia, oppure nel corso di spondilartrosi andiamo a trattare infiammazione e dolore. Per il trattamento della colonna si utilizza più frequentemente una modalità di applicazione a scansione, trattando la colonna da un lato e dall'altro. È possibile trattare la parte lombosacrale, toracolombare e cervicale. Per eseguire la modalità scansione si sposta il pelo lateralmente alla colonna vertebrale applicando direttamente sui muscoli paravertebrali, si cerca il contatto diretto con la cute e si esegue la scansione. Prima da un lato e quindi dall'altro. Se fosse presente qualche trigger point è necessario localizzarlo a livello della muscolatura paravertebrale e quindi andare ad applicare direttamente il manipolo sul punto trigger, spostando il pelo.